Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale! Oggi facciamo la gara chi fa più salti avanti in uscita bloccata Vince la gara chi fa per prima tre salti avanti stoppati bene dai chiara no no si è bloccato sul morbido ah mi viene no no primo giro un fallimento via no aspetta attenta quasi no andate un pelopino alto si la mira un punto ahhh peccato no così questo non era neanche un saltavanti Nelly no via Siete tutte a zero Tranne a mira un punto No Quasi No Quasi No No Due Uno Elena Però tu ne hai fatti tre per terra Sei la vincitrice morale Dai No tre Nelly Tre Ha vinto A mira Vai Due Le brava Che pizza Io la rendo Ele No No Concentrate Prima era poco Adesso è un po' troppo Ele No No Dai Dai Nelly No Peccato Ele Facciamo sto terzo Vai Nelly Ultimo 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 Elena No 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 Stop Si Seconda No 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 Grazie a tutti.